Tu chi sei? Io sono la voce della tua verità. Sono il filo che lega gli estremi. Sono il collante tra Creepy e Giovanni. L'interferenza che corre tra una risata e una smorfia. Tra solarità e cupezza. Sono ciò che ti permette di essere l'una e l'altra. Sono l'estratto del tuo essere. Sono ciò che ha guidato il tuo percorso. Colui che ha generato la tua arte, la tua religione, il tuo canale. Sono il creatore del divino e di tutto il culto che ne deriva. Sono ciò senza il quale tu non sapresti vivere. Io sono ciò che rende possibile l'esistenza di tue entità nel corpo di una persona. Sono l'essere che ha il compito di tenere in vita Creepy e Giovanni. Sono l'essenza della tua identità. Io sono te. Ciao. Grazie.